Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Regime di alta pressione sul nostro territorio. Il tempo si manterrà dunque buono. Il dettaglio di giovedì 24 novembre. Sul Veneto iniziamo col dire che non sono previste precipitazioni. Avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura di prima mattina nebbie e locali in dissolvimento con il passare delle ore e nuova formazione di sera. Temperature in calo, minime tra 1 e 4 gradi, massime invece comprese tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo al massimo poco nuvoloso, con qualche addensamento ma innocuo. Marea ancora sostenuta al mattino. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 10-14 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche annuvolamento più intenso a nord e possibilità di qualche debole nevicata lungo il confine con il Tirolo. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.